L'Assessorato all'Ambiente della Regione per celebrare il 2010, l'anno internazionale della biodiversità, in collaborazione con le aree protette regionali, ha inteso promuovere una serie di iniziative sul territorio, appunto una per ogni area protetta, che avessero un valore locale, ma che alla fine potessero realizzare un mosaico di interventi per descrivere la ricchezza di biodiversità nel nostro territorio. Quindi si è parlato e si parlerà di habitat, di specie, ma anche di argomenti di interesse molto generale. Ad esempio quello di oggi del Parco dei Sibilini si tratta il tema delle azioni di riqualificazione territoriale e di rintroduzione della fauna. E quello del 12 novembre sarà effettuato il convegno ad Arquata del Tronto, al Parco Gran Sasso della Laga, e tratterà invece degli aspetti della biodiversità e dei servizi ecosistemici. Cioè di quei servizi e di quei beni che la natura offre all'uomo per garantire il suo benessere. Cibo, medicinali, ma anche la depurazione dell'acqua, il contrasto all'erosione territoriale, sono altrettanti aspetti che la natura ci offre gratuitamente e di cui appunto possiamo goderne nel limite in cui noi rispettiamo questo capitale naturale. Un'altra importante iniziativa che si sta concludendo proprio per la difesa della biodiversità è il progetto di rete ecologica regionale. È un progetto che intende qualificare tutto il territorio, suddividendo in 82 unità ecologiche funzionali, che hanno appunto un valore per graduare poi gli interventi di pianificazione e di progettazione, anche inserendosi in strumenti già esistenti come il piano paesistico regionale o come i piani territoriale di coordinamento delle province. Infine vorrei illustrare questo testo che è prodotto proprio in questi giorni insieme all'Università Politecnica delle Marche. La biodiversità appunto delle Marche è un testo che verrà presentato ufficialmente il 17 dicembre nella sala del rettorato dell'Università di Ancona. È stato redato in particolare con l'Orto Botanico di Gallignano di Ancona ed è rivolto principalmente alle scuole di ogni ordine grato.